Pressione in graduale aumento con rotazione dei venti a nord-est. Nelle prossime ore le condizioni atmosferiche si manterranno stabili. Martedì 4 ottobre in Toscana sereno o poco nuvoloso. Venti nord-orientali, deboli nelle zone interne, moderati in arcipelago e lungo la costa. Mari poco mossi sotto costa, mossi a largo e a sud dell'Elba. Temperature minime insensibile calo, massime stazionarie o in lieve flessione. Sereno su tutta la provincia. A Lucca temperatura minima 8, massima 23 gradi. A Via Reggio minima 13, massima 23 gradi. A Castelnuovo minima 7, massima 22 gradi.